Blitz dei carabinieri ieri mattina nel tribunale di Vallo della Lucania. I militari della locale compagnia al comando del capitano mennato Malgeri hanno eseguito una perquisizione all'interno degli uffici giudiziari. Nel mirino delle forze dell'ordine, i fascicoli in possesso dell'ufficiale giudiziario Carmine Testiera. L'ufficiale giudiziario, infatti originario di Ascea, attualmente risulta iscritto sul registro degli indagati per danneggiamento e abuso d'ufficio aggravato in concorso con un'altra persona. Avrebbe favorito durante una procedura di pignoramento una ditta della zona. E in particolare, secondo l'accusa, avrebbe danneggiato il lucchetto di un cancello di un terreno privato per agevolare lo sversamento sull'area di numeroso materiale di ledi risulta per l'allargamento di una strada gravata da servitù di passaggio. Le indagini sono tuttora in corso e non sono esclusi ulteriori clamorosi risvolti giudiziari, ma sulla vicenda gli inquirenti al momento mantengono il massimo riservo.